Una vittoria netta a quella della Giorgio Tesi Group contro Sansevero, la più netta finora tra le 19 gare giocate dai biancorossi. Il punteggio di 68-50 rispecchia fedelmente l'andamento di una partita che ha visto sempre Pistoia avanti toccare anche il più 21 ma rimanere costantemente in controllo della gara, con i pugliesi che non hanno mai dato l'impressione di poter minimamente tornare in partita. Non è stata certa una prestazione perfetta, chiusa con 3 su 17 dalla lunga distanza e 12 perse, ma tanto è bastato per ribaltare anche la differenza canestri della partita di andata persa di 14. Ottima la prova di Deshaun Sims, rebus irrisolto per i pugliesi, con 21 punti e 10 su 14 dal campo. Molto bene Jonas Risma, che bissa i 14 punti contro 100, segnandole addirittura 15 con 3 su 6 dalla lunga distanza e toccando il suo massimo nella sua prima apparezione nel campionato di A2. Certo che sono contento, ma alla fine sono tiri sempre che devo prendere io e basta che segno, non è niente di chi è secondo me. Credo che abbiamo fatto una bella partita, abbiamo difeso molto bene e si è fatto bene ovviamente anche in attacco e non si è smesso di fare una battaglia per tutti i 40 minuti secondo me. Nota dolente tra Sean Fletcher, apparso un corpo estraneo alla squadra, abulico e che ha chiuso la prestazione con 4 punti in 25 minuti di utilizzo, 0 su 4 da 3 e 3 palloni persi. Per Sansevero bene Rottenay Clark, alla prima in maglia giallonera con 21 punti in 34 minuti giocati, mentre molto deludenti Ikanji e Ojaid, protagonisti nella partita di andata, che hanno chiuso con 8 punti in 2 ed un complessivo 4 su 29 dal campo che grida vendetta. Adesso 10 giorni per ricaricare le pile, approfittando della sosta di domenica e poi ritorno in campo previsto il 14 febbraio contro Ravenna, formazione dietro in classifica ma che nelle ultime settimane ha battuto Napoli e Scafati ed avrà un ex come Daniele Cinciarini dal dente avvelenato.